Ad Agrigento sabato prossimo 17 settembre in via Pirandello nello spazio Temenos all'interno della chiesa di San Pietro alle ore 16.30 il FAI Fondo Ambiente Italiano Giardino Colimbetra presenterà la start-up quindi l'inizio attività del progetto che è stato intitolato Booking Ability compresso nell'ambito di un programma di collaborazione sostenuto da tempo dalla FAI non solo ad Agrigento ma in tutta Italia e che coinvolge operatori turistici, strutture ricettive e ristorative Booking Ability è una piattaforma internet sul turismo accessibile e sui soggiorni delle persone disabili o con esigenze speciali su tale tema alle 14.30 relazionerà ad Agrigento Annalisa Riggio, coordinatrice di Booking Ability in presenza dei gestori di strutture ricettive interessati dal progetto la presentazione sarà moderata dal docente e scrittore Alessandro Cacciato interverranno Francesco Piccarella, presidente federalberghi e confcommercio Agrigento Giuseppe Parello, direttore dell'ente parco Valle dei Templi e il sindaco di Agrigento Calogero Firetto come presidente del distretto turistico Valle dei Templi in proposito ascoltiamo Federica Salvo, responsabile turismo Giardino Colimbetra A Agrigento sabato 17 settembre alla chiesa di San Pietro si svolge l'iniziativa di presentazione di Booking Ability per il turismo accessibile, per il soggiorno delle persone disagiate in un certo qual modo Federica Salvo, Giardino Colimbetra, responsabile turismo Sì, grazie intanto per lo spazio che mi state concedendo appunto come accennava lei sabato 17 presso Spazio Temenos Chiesa di San Pietro sito in via Pirandello 2 ci sarà questo incontro con la start-up siciliana BookingBility.com che funziona un po' come la piattaforma online Booking conosciuta da tutti, solo che sarà rivolta esclusivamente a quelle persone che hanno esigenze particolari quindi non solo disabili ma esigenze anche di altro tipo si pensa per esempio ai celiaci oppure eventualmente anche a donne in gravidanza e quindi tutto quel target che normalmente fa magari un po' di difficoltà a trovare un soggiorno in giro per l'Italia e poi si spera anche per il mondo l'incontro si articolerà in due parti la prima riguarderà appunto i partner FAI esclusivamente quindi le strutture ricettive che hanno deciso di sostenere il FAI da un po' di anni a questa parte in particolare il Giardino della Colimbetra sarà un workshop tenuto sempre dalla founder di BookingBility, Annalisa Riggio dopodiché ci sarà la presentazione pubblica dell'azienda che vedrà coinvolti diversi operatori turistici è rivolto principalmente alle strutture ricettive e quindi saranno presenti Francesco Piccarella per quanto riguarda appunto la ricettività agrigentina poi sarà presente anche il direttore dell'ente parco l'architetto Parello perché chiaramente è inutile parlare di turismo accessibile all'interno delle strutture se poi il maggiore attrattore turistico non è accessibile ci sarà anche il sindaco Firetto nelle vesti non solo di primo cittadino ma anche di presidente del distretto turistico ed infine il tutto verrà moderato da Alessandro Cacciato il Sud Vola o Edicola dell'Innovazione quindi un ragazzo che si sta occupando da un po' di tempo a questa parte di tutto ciò che è innovativo e questa start-up sicuramente lo è